Lucio, sei bello, sei bello, puoi bene alla mamma, sì, io so che ti piace quando ti parlo, che ti faccio i discorsini, perché tu mi fissi proprio negli occhi e mi ascolti e continui a guardare lì. Ma non ti preoccupare di Mosè, Mosè è in giardino, lasciagli fare la sua vita, che lo sai che lui è nero e va fuori nel buio e si mimetizza, tu sei qui con me, adesso siamo io e te e facciamo i discorsini che ti piacciono tanto quando la mamma ti parla, tu ascolti, è vero Lucino? Vuoi venire su? Vuoi venire su? Dai, fatti una sistemata, dai, ti aspetto, ti aspetto, dai. E continua a guardare lì. Ma sei proprio fissato con quella gattaiola, perché è lì Mosè? Io non lo vedo, non lo vedo io Mosè. Guarda che Mosè che ha, avrai un bel Mosè da bambino, un Mosè serio. Vieni, dai, vieni, su 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 su, dai, dai. è il mio Lucy è il mio Lucy bello è i miei occhioni belli i miei orecchietti belli è il mio musino bello lui e vabbè niente allora il video finisce